Ehi, quasi esagerato, va bene l'entusiasmo, ma è uscito l'audiolibro di questo libro qui per Audible, un putiferio, un putiferio, 382 recensioni in pochissimo tempo, cioè più del numero delle recensioni su Amazon del libro cartaceo, pensavo non esistessero neanche in Italia 382 ascoltatori di audiolibri, invece no, pare sia una cosa più diffusa di quello che io immaginassi, ma poi voto, prebiscito, una media del 4,9 stelline su 5, vabbè addirittura Audible mi ha contattato per ragionare su questa opportunità di farmi leggere libri altrui, quindi produrre audiolibri cui io non sarei l'autore ma solo il dicitore diciamo, vabbè questo vedremo, nel frattempo però ho fatto l'audiolibro anche di questo, di questo qui, Storia perfetta dell'errore, il mio primo libro per Rizzoli, è un libro a cui sono molto affezionato, sono molto affezionato anche se è uscito due anni fa appunto, perché è stato per me un po' un salto, prima pubblicavo per editori locali a cui sono affezionato, sono, rimango grato, però questa è la prima volta che pubblicavo con Rizzoli e soprattutto pubblicando con Rizzoli è la prima volta in cui mi sono dovuto confrontare con un editor, no? Allora, vi racconto questa cosa, ve la svelo, poi l'ho detta sempre nelle presentazioni, nelle presentazioni del libro, quindi, però molti magari di voi non lo sanno, io volevo scrivere un libro di storie, di narrazioni, cioè la maggior parte delle storie che sono contenute qui sono in un mio monologo teatrale, io volevo fare un ampliamento del mio monologo, come ho fatto poi con questo, che ho ampliato il mio monologo teatrale, vabbè, ma l'editor, la mia editor mi ha detto, guarda, tu adesso però non sei noto, non ti conosce nessuno, se vuoi dare speranza al libro, di essere venduto, di avere un po' di diffusione, di vivere, dovresti fare il tipo di libro che è più, insomma, che è più forte sul mercato, che è il romanzo, quindi la cosa migliore sarebbe fare in modo che tu non sia direttamente un narratore che racconta le storie, così, al lettore, ma tu dovresti inventarti un personaggio, un personaggio che ti inventi tu, il quale racconta queste storie a un altro personaggio che ti inventi tu per un motivo, che ti inventi tu, se vuoi, se puoi, se ce la fai, cioè si trattava di scrivere un romanzo, praticamente, o qualcosa che avesse la forma di un romanzo, infatti vedete che hanno posto la dicitura romanzo, anche se è un romanzo, insomma, per modo di dire questo, io non avevo mai scritto un romanzo, non sono neanche un grande lettore di romanzi, perché preferisco i saggi, preferisco la poesia soprattutto, però mi sono detto, cosa devo fare? è un libro dove le storie che sono contenute parlano di difficoltà, ti vengono affrontate e diventano poi come dei trampolini, degli agenti propulsivi, degli inciampi che ti insegnano a volare, degli ostacoli che ti danno forza, delle perdite che ti arricchiscono, io se voglio essere coerente col senso del mio libro devo accettare la sfida, devo accettare la sfida, devo fare un libro che non ho mai fatto, devo fare una sorta di romanzo, devo inventare dei personaggi, questa era la sfida, inventare dei personaggi, cosa che io non ho mai fatto e mi è successa una cosa strana, io mi sono inventato i due protagonisti di questo libro che sono Pietro e Selene, Pietro è questo giovane paleoantropologo, un ragazzo, un giovane uomo molto curioso, anche molto preciso, molto pignolo, molto amante dell'ordine e della logica e Selene per il gioco degli opposti che si attraggono, invece questa ragazza intelligentissima, bellissima, coltissima, molto passionale, appassionata, una che ha bisogno del fuoco, ha bisogno di ardere e traduce dall'ebraico antico, c'è tutta una serie di motivi per cui ero arrivato a conclusione che lei dovesse tradurre dall'ebraico antico, se no non tornavano delle cose, e vabbè. Nei mesi in cui ho scritto il libro, piano piano, questi due personaggi mi sono entrati dentro, cioè io razionalmente lo sapevo che non erano persone reali, che non esistevano, allo stesso tempo avevo una specie di affetto, di attaccamento e l'idea di non poterli vedere, di non poterli incontrare mi dispiaceva, ripeto, non ero impazzito, razionalmente sapevo che non esistevano, ma allo stesso tempo anche l'idea di non scrivere un seguito, quindi non avere più a che fare con loro, era una cosa che mi faceva sentire un senso di mancanza, e spesso, quando facevo la presentazione del libro, o anche uno spettacolo, o anche uno spettacolo, e dopo lo spettacolo facevo il firma copie, e venivano sempre, c'era una bella fila di persone che aspettava di salutare, di fare un selfie, di farci fare la firma appunto sul libro, e spesso erano copie, copie di giovani, lui, lei, lei, lui, e a me, mentre firmavo copie, stringevo mani, facevo selfie, ogni tanto veniva da pensare, ecco adesso così a sorpresa vengono fuori loro due, Pietro e Selene, adesso qui in mezzo nella fila ci sono, e mi ricordo una volta a Rimini, che ero a Rimini, e Rimini è proprio la città in cui è ambientato il libro, ci sono questi due giovani, e lei ha al collo due gioielli, due gioielli, due ciondoli, due ciondoli, una è un maghen David, cioè una stella di Davide, quindi perfetto, per Selene, traduce dall'ebraico antico, e l'altro è un rametto di corallo, un rametto di corallo, ora dovete sapere che il rametto di corallo è il ciondolo che ha Gesù Bambino nei quadri di Piero della Francesca, e Piero della Francesca è il pittore preferito di Pietro, dell'altro protagonista del libro, tra l'altro a Rimini c'è un affresco di Piero della Francesca, vi faccio vedere, vedete, vedete questa Madonna, vedete il bambino, ha una collana rossa, quello, non so quanto si veda bene, ma è un rametto di corallo, ma non è l'unico caso, non è l'unico caso, ecco, ecco, anche nella pala di Brera, qui si vede un po' meno perché il bambino è più piccolo, vedete, piano piano, provo ad avvicinare senza far sfuocare, vedete, il bambino ha una collana, quella collana ha un ciondolo, quello, è un rametto di corallo, poteva essere perfetto, no, come regalo di Pietro a Selene, e dico alla ragazza, ma quel ciondolo, rametto di corallo, è il ciondolo che ha Gesù Bambino nei quadri di Piero della Francesca, e lei mi ha detto, sì, sei l'unico che se ne è accorto, ho salutato, ho fatto la mia firma, loro sono andati via, ho pensato, questo poteva essere un dialogo con Selene, poteva essere un dialogo con la protagonista del mio libro, insomma, per dire quanto mi sono entrati dentro questi due, volevo leggervi un pezzetto, un pezzetto, poi se vi va, se siete abbonati a Audible, potete ascoltarvi tutto il libro, dura 4 ore qualcosa, 4 ore e mezza mi sembra, però vorrei leggere un pezzetto, un pezzetto che, insomma, mi piace come è venuto, ed è proprio il pezzetto in cui io racconto l'incontro fra questi due personaggi, che prima ho faticato a inventare, poi mi sono entrati così dentro, sotto pelle quasi, il loro primo incontro, si chiama Belzebù, il capitolo, poi si scopre perché, e dice così, E pensare che tutto era cominciato una domenica mattina qualunque, in un bar qualunque di Rimini, mentre una ragazza qualunque sosseggiava il suo cappuccino qualunque, improvvisamente la ragazza qualunque aveva sgranato gli occhi, aveva imprecato, si era alzata di scatto dalla sedia, durante l'operazione aveva urtato il tavolino qualunque e per poco non aveva fatto rovesciare la tazza qualunque, dopodiché aveva sbuffato, si era chinata in fretta a prendere la tazza e aveva indietreggiato di un passo ancora. Perché quel trambusto? Oh, nulla di serio, non preoccupatevi, una sciocchezza qualunque. Il fatto è che la ragazza qualunque aveva appena visto, ferma sull'asta dell'ombrellone accanto al suo tavolino, un'ape qualunque e si dava il caso che qualunque ape la terrorizzasse da quel giorno qualunque in cui era stata punta. Tutto bene? Aveva sentito domandare da un ragazzo qualunque seduto a un tavolo qualunque accanto al suo. La ragazza aveva risposto frettolosamente col tono di maldissimulato fastidio che si può attributare a un qualunque aiuto non richiesto, specie se si obbliga a confessare di aver avuto una reazione sproporzionata alla causa. Ma no, niente, è che c'è un'ape aveva fatto con un gesto sbrigativo qualunque in direzione dell'insetto. Il ragazzo qualunque allora si era avvicinato di qualche passo all'ombrellone qualunque, aveva osservato l'ape qualunque e aveva pronunciato qualcosa che la ragazza non si aspettava e che aveva turbato la banalità qualunque della scena. È una mosca. Proprio così aveva detto il ragazzo qualunque. È una mosca. Lo aveva fermato senza l'aria di contraddire o di correggere la ragazza, ma al contempo con una tranquillità che non rendeva possibile contraddirlo o correggerlo. Usando un tono cortese e privo di qualunque sacenteria. È una mosca. Lo aveva detto alla maniera con cui si presenta un parente qualunque a un amico ignaro dei nostri legami familiari. Come dicendogli è mia zia. Lo aveva detto quasi un po' come si parla del proprio cane a un estraneo qualunque che si sia affermato ad ammirarlo e vezzeggiarlo. È un golden retriever. La ragazza aveva sgranato per la seconda volta nella mattina qualunque i suoi non qualunque occhi neri e aveva quindi ipotizzato di non aver capito bene o che il ragazzo avesse una pessima vista. Dopodiché il ragazzo che non articolava in modo chiaro le parole o che aveva una pessima vista aveva picchiettato con due dita della mano sinistra l'asta dell'ombrellone, aveva atteso che l'ape si alzasse in volo e aveva allungato di colpo il braccio chiudendo l'insetto nel pugno. Aveva così provocato un terzo e più prolungato sgranarsi di occhi neri. Poi il ragazzo che non parlava bene o che non vedeva bene, sempre tenendo stoicamente l'ape nel pugno, si era voltato verso la ragazza qualunque dagli occhi non qualunque, le aveva sorriso e le aveva detto è un sirfide, un dittero del sottordine dei bracchiceri, cioè in parole povere una mosca. Aveva aperto lentamente la mano come porgendo alla ragazza l'ape o la mosca e aveva proseguito. È a strisce gialle e nere per cui sembra un'ape, ma in realtà è una mosca. Vedi che ha gli occhi da mosca? La ragazza aveva pensato che per la prima volta nella sua vita qualcuno le aveva chiesto di guardare negli occhi un insetto. Così i suoi occhi non qualunque avevano guardato con una certa curiosità gli occhi dell'autore di quella non qualunque richiesta. E viceversa, naturalmente. I sirfidi sono le macchine volanti più perfette della natura, aveva detto il ragazzo, e aveva scosso leggermente la mano al che il sirfide che a quanto pareva, nonostante le apparenze, era più una mosca che un'ape, aveva cominciato a volare seguendo effettivamente linee di sorprendente precisione geometrica, svoltando in curve che erano più spigoli che curve e fermandoci addirittura immobile a mezz'aria, come fosse un drone e non un animale. Vedi? Vedi come vola? Vedi come è preciso? C'era una sottile soddisfazione nella sua voce, non che avesse parlato dell'insetto con lo stesso affetto con cui i padroni di cani parlano dei loro amici a quattro zampe, ovviamente, ma neppure con l'imbarazzo che solitamente si prova nel parlare dei propri parenti. La ragazza qualunque dagli occhi neri non qualunque aveva pensato che il ragazzo qualunque dagli occhi azzurri avesse nel portamento, nei gesti, nella proprietà del linguaggio, una precisione perfetta e un po' straniante, vagamente simile a quella del sirfide. Gli aveva affibbiato mentalmente un soprannome, Belzebù, dall'ebraico Bagal Zebub, ossia il signore delle mosche. Non è dato sapere se sia lecito ritenere quell'incontro l'inizio di un corteggiamento. Fatto sta che, dopo quel primo approccio, o dopo quella prima lezione di entomologia, i due si erano rivisti. Poi, nel giro di un mese, Belzebù le aveva rubato il cuore. E viceversa, naturalmente.